Mercoledì, 15 dicembre 2021. È il 349esimo giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale del Sagittario. Gli onomastici di oggi. Oggi è l'onomastico di Cristiana e Noemi. Accadde oggi. Il 15 dicembre 1974 esce nelle sale Frankenstein Junior, diretto da Mel Brooks. La saggezza del web. Citazioni dalla rete. La vita è veramente molto semplice, ma non ho insistito nel renderla complicata. Lo diceva mio nonno. Fagiolo a fagiolo si colma il paiolo. Parla come mangi. Gli inglesismi spiegati bene. Da skin, pelle e head, testa, skinhead è un termine utilizzato nel linguaggio della moda. Si riferisce alla testa rasata ed è un termine usato anche per identificare gruppi di neofascisti o neonazisti. L'inglesismo skinhead era molto utilizzato negli anni 80, quando anche la presenza di questi gruppi era molto più diffusa.